Oh, dai, oh! Ci mettiamo su un lato. D'accordo, ci mettiamo sul lato, mettiamo le gambe, una davanti e una dietro, ci mettiamo a terra, salgo, scendo, su, giù, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora. Senta, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. Già che siamo qui, prendo la zampezza e da qui, su, giù, uno, qui, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto. Troppo, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, come va? Uno, e cambio, parte. È divertente questo, vero? Salgo, scendo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. Prendo una zampetta, l'altra lì, e vado. Un, due, tre, quattro, che non va su, cinque, sei, sette, otto, ancora. Senta, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. Com'è andata? Per quale motivo? Malissimo. Non veniva su? E allora ne facciamo un altro. Allora, questo è più bello. Dobbiamo. Ginocchio al pezzo, gambe in alto. Ginocchio al pezzo, gambe in alto. On, su, due, su, tre, su, quattro, su, e cinque, la chicca se la prende col tappetino. Sei, su, sette, su, otto, su, cambio parte. Raccolgo, e su, 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 quattro, su, cinque, su, sei, su, sette, su, otto. sentite lavorare gli addominali? Non sentivate? Non sentite niente? Allora, prendiamo un peso gigante, che così rifacciamo lavorare di più. ginocchia piegate, piedi appoggiati a terra, alzata completa, salgo, qui, e scendo, sì che sono addominali, è tutto, ho capito, ma hai due braccia, cinque chili, non so nulla, eh, giù, qui, su, lì, scendo pian pianino, tengo gli addominali, salgo, tre, salgo, quattro, salgo, cinque, salgo, sei, sette, otto, ancora, otto, Sette Sei Cinque Quattro Tre Due E uno Stop Ora facciamo un'altra cosa molto divertente Rimaniamo a terra Però Togliamo il tappetino Continuiamo a lavorare in modo creativo Sugli addominali Facendo che cosa? Ok E Potete farlo anche senza salti Certo Allora Da beer Squat Salto da una parte Salto dall'altra E due jumping jacks Da qui On On Stendo On Due Torno On Due Scendo On Due Torno Tre Tre Qui Apro Apro Quattro Quattro E E Cinque Cinque E E Sei 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 E E E Sette Sette E E Otto 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 E E Allungo Tra l'altro Lavoravano anche le braccia Non so se vi siete accorti E Saliamo Tutto bene Daniela Ha detto benissimo Ne voglio ancora una serie No Non ho capito se è malissimo o benissimo Issimo Si avvicina la Stefania per darti le dritte giuste per rispondere correttamente Quattro Tre Due E Uno Mi fermo Facciamo Uno squat Salgo Un calcio laterale Scendo On Su Un calcio La E Due E Sì Tre Scendo Qui Quattro Scendo E Cinque Qui Sei Stessa parte Sette Otto E Ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Quattro Io ho lavorato con la gamba destra Di terra Ok La sinistra era in alto Avviciniamo i piedini Mezza punta Con la gamba che si sollevava Quindi con la mia sinistra Da qui Sette Schiss Scuota Schiss Scuota O Due Mi raccomando Pese bene indietro Tre Quattro Cinque Sollevata questa gamba Sei Se preferite No Meglio così Sette Otto Ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due E uno Ora Allontaniamo un pochettino Indietro la gamba che avevamo tenuta in mezza punta Il piede in mezza punta Continuiamo a lavorare sulla stessa gamba Come Con degli stacchi Single leg On Due Il peso qui è Tre Quattro Cinco Cinco Sei Peso tutta sulla gamba davanti Sette Otto Ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Quattro Tre Tre Due Due E uno Sentite il gluteo? O non lo sentite? Non ha sufficienza mi pare Un Un Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Tre Troppo Se Troppo 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 Tre Troppo Troppo Tr Marco 3, non abbiate fretta, 4, scendete bene, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, sposto il piedino indietro e andiamo con il distacco single leg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, stop!